Naturalmente noi lavoriamo per partecipare ai giochi di Tokyo, passando per la qualifica per arrivare ai giochi di Tokyo. Settembre ricominciamo alla grande direi perché avremo in linea di massima, poi dovremo valutare bene mese dopo mese anche come va questo Covid perché piano piano ritorneremo in palestra e lì dovremo gestire numeri che magari non ci stanno, ma non è un problema perché magari faremo qualche raduno in più con meno persone e via. Comunque in linea di massima da settembre in poi due incontri al mese con i ragazzi ci saranno. Ammetto che è difficile, è una prova difficile, pesante, dura, perché? Perché le nazioni da battere sono tante. Indubbiamente qualche anno fa le nazioni erano, non dico la metà, ma quasi. Ora ce ne sono veramente tante e la concorrenza c'è. Le aspettative, più che le aspettative di risultato, secondo me ci sono le aspettative per fare un buon lavoro. Facendo un buon lavoro sicuramente un buon risultato ci sarà, per cui mi sbilancio, mi sbilancio, sì, dai, le aspettative sono buone, il posto ce lo prendiamo, dai, via.